Nei suoi ultimi istanti, Kronika ha cercato di tentarmi. L'avessi risparmiata, avrebbe riscritto la storia. Con Jade come regina, avrei regnato su un impero Ostech in perituro ed esteso a tutti i regni. Ma Kronika non conosce l'animo Ostech. Le nostre vite sono come tessuti, originati dall'intreccio di destino e volontà. Se tiri un filo, la stoffa si squarcia e diventa inservibile. Ora che ho il dovere di custodire il tempo, tutti mi chiedono di riscrivere il loro passato. Ma fin quando la Klessidra mi apparterrà, non modificherò il destino di nessuno. La storia si dipanerà come stabilito dai suoi attori. Le sabbie si depositeranno dove capita. La storia si dipanerà come stabilito dai suoi attori. Grazie a tutti.